Vedrebbe poco il campo, dunque non so quanto possa essere un acquisto utile in questo momento. Alfredo Pedulla, come sapete il noto giornalista di calcio del mercato, qualche giorno fa ha lanciato la bomba che il Toro sarebbe quantomeno pronto a fare un'offerta, però non so se questo acquisto possa essere utile a breve termine. E' chiaro, magari potrebbe essere un talento interessante e potrebbe eventualmente essere inserito negli schemi di ventura per poi rendersi più utile prossimamente, però non so se è proprio il caso di farla a gennaio questa operazione, quindi rimanderei a mettere un punto interrogativo su questa trattativa presunta o non presunta. Invece sull'Azar è un giocatore molto interessante che sta facendo davvero bene al Varese in Serie B e infatti proprio per questo motivo ha attirato l'interesse del Palermo e in questo momento sembra che davvero la squadra siciliana sia sempre più vicina all'acquisto, almeno in comproprietà del ragazzo algerino o marocchino, non ricordo bene. Comunque sia un talento davvero interessante che gioca come esterno sinistro nel 3-5-2, dunque che gioca soprattutto come esterno sinistro nel 3-5-2, uno che davvero potrebbe avere un futuro interessante. E' chiaro, lo aspettiamo su palcoscenici più importanti della Serie B, ma teniamolo d'occhio anche eventualmente per un futuro. Jimmy, dunque, Aguirre e l'Azar, sono due trattative che ritieni fattibili? Ora gennaio non tantissimo, sono d'accordo che su questa finestra di mercato, già di sua è una finestra di mercato, già che si chiama di riparazione, la dice tutto. Io la prima volta, questo è il mio secondo mercato, da agente mi sto accorgendo che ci sono veramente un'enormità di chiacchiere per arrivare a poco barra nulla. Credo che si possa invece intavolare qualche cosa per l'estate, anche perché le squadre che adesso si devono privare di un giocatore titolare, come può essere anche il Varese, poi devono pensare a come sostituirlo, diventa complicato. Non credo che per questa finestra di gennaio si possa arrivare questi due giocatori. Ok, perfetto. Dunque, un'ultima curiosità che riguarda un giocatore che è stato, a quanto pare, nel mirino del Toro, ma che poi ne è uscito con un'affermazione abbastanza clamorosa. Stiamo parlando di Riyad Maretz, che è un trequartista, mi pare che fino all'altro ieri, era in forza a Le Havre, in Ligue 2, e che oggi ha firmato per il Leicester, squadra di seconda divisione inglese. All'Leicester Mercury, Riyad Maretz ha affermato che su di lui c'erano Toro e Leicester, e lui non ha avuto dubbi ad accettare il Leicester, perché fra Toro e Leicester per lui non c'era confronto. Dunque, Jimmy, tu riesci a dare una spiegazione a questa affermazione? No, onestamente, tra l'altro non conosco neanche il giocatore. Non lo so, onestamente, mi sfugge un pochino questo genere di veduta. Non so, beh, quello che posso solo pensare è che il Leicester è primo in classifica e probabilmente il prossimo anno il ragazzo potrà giocare nella Premier, che è un campionato ovviamente molto più appetibile di quello italiano e forse la sua scelta è stata dettata da questo. Può essere. In questo posso dargli l'unica cosa positiva, poi per il resto non capirei. Giacomo, una tua opinione? Sì, sono sostanzialmente d'accordo con Jimmy. Credo che si riferisse soprattutto alla situazione di questo momento, ossia che vede un Leicester che potrebbe far ritorno dopo qualche anno di purgatorio nella principale categoria inglese. E' chiaro che questo, ma soprattutto mi sembra quest'estate, quando si era parlato di un possibile approdo di Derdioc, che bollò immediatamente noi, bollò il Torino come una squadra da bassa classifica e dunque rilasciò delle dichiarazioni altrettanto clamorose. Il Torino è una squadra che lotta per la salvezza, io non andrò mai in una squadra del genere. Dunque non è la prima volta che capita, stiamo lavorando, credo che ci sia l'intenzione da parte di tutto l'ambiente di tornare a riottenere anche una certa credibilità, se possiamo considerarla tale. Perché noi la nostra credibilità ce l'abbiamo sempre avuta, però è chiaro, forse agli occhi degli altri, alla vista da fuori, vedendo che il Torino ha passato diversi anni in Serie B, negli ultimi 15 anni, questo può aver avuto una risposta negativa su quello che è il nostro appeal, fondamentalmente. Beh, su Derdioc c'è da dire che un anno fa, quando lo avevamo corteggiato noi, era all'Offenheim che si è salvato allo spareggio contro la terza di Zweitebundesliga, dunque non aveva tanto da parlare il signorino, l'Eren. Ti eri legato al dito questa qua? Eh sì, sì, abbastanza, perché io per Torino-Granata avevo seguito la trattativa, diciamo che me l'ero presa un po' a cuore e questa notizia mi aveva un po' scioccato poi, perché insomma non pensavo che sarebbe arrivato a tali livelli di incoerenza il giocatore svizzero. Poi, un'altra curiosità è che il presidente delle Leicester è un magnate tailandese, un certo Vikai Raksriaskron, che sicuramente avrà tirato fuori più soldi che Urbano Cairo, nel caso in cui noi avessimo mai offerto un contratto a Riyad Maharetz. È sempre un po' il discorso del mio denaro. Ah, vabbè, ma sai, adesso in questo momento in Inghilterra diventa anche un po' più semplice poterci sorpassare non solo al Toro, senza fare polemiche su Cairo, ma anche su molte squadre che non siano quelle delle prime 5-6. Sì, quindi devo dirti che sai, se ragioniamo sul blasone è ovvio che non dobbiamo stare neanche a parlarne, se ragioniamo sul resto in questo momento sia come un movimento calcistico italiano, sono d'accordo anche sul discorso dell'appeal, sai, l'appeal per un giocatore italiano è ancora molto forte, per un giocatore straniero lo penserei di meno. Chiaro, chiaro. Dunque, da 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 da, momento topico, momento topico, perché è ora di chiedere a Jimmy la situazione sui suoi assistiti, perché noi ne conosciamo principalmente tre, principalmente, che sono Walter Birsa, Sami Ruikani e Liz Gomis. Walter Birsa è stato, o è ancora chissà, obiettivo del Toro per rinforzare la tre quarti. Sami Ruikani non lo è mai stato, anzi si imparte quest'estate nel totoportieri, e poi c'è Liz Gomis che è il nostro secondo portiere. Dunque, situazione di Birsa, Jimmy? Allora, la situazione di Walter è molto semplice, Walter rimarrà al Milan sicuramente fino a giugno, il perché ci è stato comunicato proprio dal Milan, il Milan ha piacere di tenere Walter in rosa, il Sharawi ha subito un lungo infortunio, di nuovo, anche se è arrivato onda, ma Walter è un giocatore dalle caratteristiche diverse, e Allegri lo stima moltissimo. Purtroppo, noi preferiamo rimanere al Milan, perché comunque è vero, all'inizio ci siamo quasi trovati in questo grande club per uno scambio, poi nella realtà Walter è riuscito a conquistarsi uno spazio e ha giocato più del doppio di quello che aveva giocato tutto l'anno scorso in Granata. Lui è un ragazzo onesto, si è preso anche le sue colpe di quello che magari poteva essere e non è stato l'anno scorso, però si sa che nel calcio come nella vita tutto può cambiare, lui è un bellissimo ricordo del Toro, però fino a giugno sicuramente lui rimarrà al Milan, è una situazione molto, 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 molto chiara. Per quanto riguarda Liss, quando io giocavo nel Toro, già nel 2007-2008, Sereni era titolare, io il secondo, lui era il terzo, quindi è passato da essere un mio compagno di squadra a un mio assistito. Ed è, mi fa piacere perché poi fondamentalmente è il primo ufficiale che ho nel Toro ed è un motivo di grandissimo piacere per me. Ma la situazione di Liss è una situazione anche lì abbastanza chiara, nel senso che credo che la società voglia aspettare di valutare quale sarà l'esito di ciò che può succedere a Gillet, e questo si saprà in questa settimana entrante, dopodiché valuteremo insieme se Gillet dovesse essere assolto, è ovvio che i portieri nel Toro saranno a quel punto 4 e credo che di comune accordo con il club cercheremo una soluzione dove Liss possa aggiungere dei minuti al suo bagaglio. Se invece sfortunatamente così per Gillet non dovesse succedere, credo che il trio di portieri Padelli, Gomis e Berni sarà il trio di portieri che continuerà a difendere la Porta del Toro da qua a fine campionato. C'è stata qualche squadra che si è dimostrata interessata a un eventuale prestito di Liss? Allo Stato io ho fatto solo qualche sondaggio perché comunque Liss non è sul mercato, è ovvio che per il mio lavoro devo cercare di portarmi un po' avanti, ci sono delle squadre di Serie B che hanno in mente di cambiare il proprio portiere e io sto cercando di capire quali possono essere quelle interessate eventualmente al prestito di Liss, però nomi ancora non ne posso fare. Perfetto, perfetto, sicuramente è anche parte del ruolo del procuratore cercare di non fare nomi ed è giusto così sicuramente, non insisteremo. Dunque Chiara, c'è qualche altro tweet per Jimmy o per noi? In verità no. Sì, c'era un tweet prima. Ah, è prima, presto, allora. Aspetta un secondo, ah ok, l'ho ritrovato. Allora, Cuore Granata 3 chiede, salve, ma dove è finito il nostro Nikolas Goropsov? Non lo sento più, perché Masiello non è stato convocato? Meglio così però. Allora, Jimmy, devi sapere che noi, è da due puntate che ci stanno chiedendo dove è finito Goropsov. Noi abbiamo già risposto, alla nostra maniera, è in Romania. Dunque, invitiamo te a rispondere al nostro amico Cuore Granata, dicendo la tua su Nikolas Goropsov. Ma purtroppo Nikolas l'avevo conosciuto appena, perché lui era arrivato al Tor quando io ero andato via, proprio nel 2009 mi sembra. È un giocatore comunque che ha ancora 24 anni, non è riuscito a fare minuti. Ne ha fatti molto pochi e sia tra Vicenza, a Cesena mi sembra, insomma, ne ha fatti pochi. Non lo sto seguendo in Romania e quindi onestamente di questo campionato qua ne so molto poco. Purtroppo un giocatore come lui dovrebbe cercare di ritrovare una piazza, magari scendendo anche di categoria, dove potrà fare 30 partite. Perché solo così ti rendi conto di quello che è il tuo spessore e solo così ti puoi riproporre in una categoria superiore. Perché secondo me lui ha le qualità, però a chiacchiere purtroppo non si possono fare i contratti. Sì, detto questo, un po' troppo di quest'anno non so nulla su di lui, di quello che ha fatto, non so se a Timisoara, non mi ricordo neanche più dove... Sì, Politecnica a Timisoara. Perfetto, perfetto. Quindi sono un po' impreparato su Goropsov. Dunque, non so se puoi dire qualcosa perché è ancora sostanzialmente un tuo collega addetto ai lavori, benché abbia un ruolo diverso. Però il nome di Goropsov si lega indissolubilmente a quello di Rino Foschi. Qual è il tuo rapporto con colui che è stato il direttore sportivo nel Toro intorno al 2009-2010? L'ho avuto Foschi nel mio ultimo anno al Toro perché Foschi arrivò nel gennaio del 2009 e poi a giugno ci fu la retrocessione in Serie B e io poi andai via. Ma io l'adoro il direttore, anche perché l'ho avuto nel mio primo anno di Serie B, 98-99 all'Ellas Verona e lì vincemmo il campionato. Poi l'ho rivuto al Toro, ho avuto modo di rincontrarlo quest'estate al mercato per il Cesena. È un personaggio old style, però un grandissimo conoscitore di calcio. Io purtroppo quello che mi sto accorgendo è che con molti addetti ai lavori, mi accorgo che sono persone che fanno sì e no solo commerciale, ma che se c'è poi da parlare di moduli o di caratteristiche di giocatori poi cascano. Il direttore invece è un personaggio che di calcio ne sa e ne mastica, che se vede un giocatore lo sa riconoscere. È un personaggio che ha un suo carattere, anche spigoloso, però è un uomo con un grande cuore. Io ci sono affezionato e ho un bel ricordo di lui e mi fa piacere quando abbiamo modo di lavorare insieme. Perfetto, perfetto. Dunque comunque un rapporto di stima e amicizia, suppongo. Noi, e chiedo conferma a Giacomo, non è che abbiamo un gran ricordo di Rino Foschi? Ma va detto che è arrivato in un momento difficile del Torino. Eravamo costantemente in lotta per la, diciamo, sul margine del terzo e ultimo posto. Alcuni acquisti purtroppo non riuscirono a rendere immediatamente per quello che valeva, nonostante... 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 Grazie a tutti